Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assinazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Team legale dell'anno diritto del lavoro, il premio va allo studio legale Menichetti per offrire un servizio di assistenza legale puntuale e tempestivo e per arrivare a conoscere sempre a fondo le necessità e gli obiettivi dei propri clienti, per la velocità di risposta e la capacità di offrire soluzioni risolutive ed efficienti. Eccoli qui. Buonasera, complimenti, complimenti. Studio legale Menichetti, tutti insieme sul palco, insomma una parte dello studio per la foto di rito con il premio. Siamo in compagnia dell'avvocato Andrea Dello Marino, partner dello studio legale Menichetti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Fino a pochi anni fa lo strumento del welfare aziendale, ad eccezione delle grandi realtà industriali, era poco conosciuto da parte delle piccole e medie imprese italiane. Negli ultimi anni invece si sta assistendo ad una positiva inversione di tendenza. Qual è il vostro pensiero in merito e effettivamente conviene questo strumento alle aziende oppure no? Va premesso che la finanziaria del 2019 ha sostanzialmente confermato l'impianto del welfare aziendale che era stato disegnato dalle finanziarie precedenti, dal 2016 in poi, anche se non ha introdotto innovazioni particolari. Il nostro pensiero è che in realtà, come quella nostra, dove lo studio ha la sede principale a Verona, e quindi in una realtà di aziende venete che sono medio piccole, negli ultimi anni il welfare aziendale ha acquisito una serie di interessi sempre maggiore, proprio per la possibilità che dà all'impresa di poter erogare importi che sostanzialmente vengono dati totalmente al lavoratore, quindi senza che lo Stato ne mangi, se posso usare questo termine, da parte principale. Da un lato quindi questo è molto importante perché consente di convogliare risorse che vanno direttamente e integralmente ai lavoratori, dall'altro, visto che prevede una serie di benefit che possono riguelfare, appunto, che riguardano anche strumenti come l'asilo, le scuole e tutta una serie di assistenze alle famiglie, che in uno Stato che, ahimè, spesso negli ultimi anni abbiamo visto ritirarsi da questi aspetti di welfare sociale più in generale, certamente sono di grosso interesse. Concludo dicendo che poi la possibilità, oramai riconosciuta, di fare comunque riferimento ai contratti ombrello, pur senza essere prevista una contrattazione integrativa aziendale nelle piccole e medie imprese, ha ulteriormente esteso la possibilità di queste ultime di poter fluire di questo welfare aziendale. Secondo gli ultimi dati Istat relativi al mese di marzo 2019, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso dal 10,5% al 10,2%. Come commenta questi dati per certi versi, diciamo, inaspettati? Sicuramente con soddisfazione, nel senso che sono inaspettati e quindi, certamente, visto il trend della fine del 2018, non era facile immaginare che potesse invertirsi il trend in relazione alle percentuali di disoccupazione. È difficile però dire se sarà un trend che continuerà nei prossimi mesi o meno, perché effettivamente in parte può essere anche il frutto delle nuove modifiche legislative introdotte col decreto dignità, cioè la legge 96 del 2018 e la riduzione della durata dei contratti a termine, che può aver inciso in parte, come anche i sostanziali vantaggi dati dalle agenzie di somministrazione nel fare oggi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sempre grazie alle previsioni della legge 96 del 2018, può effettivamente avere in parte inciso su questo risultato e di cui, ripeto, sono molto felice. Però mantengo le mie perplessità e credo che dovremmo aspettare ancora qualche mese prima di dire che è un indrizzo che si mantiene. Ecco, quest'anno il vostro studio compie 50 anni. Le chiedo quali sono i vostri progetti e cosa vi proponete di fare per questi prossimi mesi del 2019 e per il 2020. Beh, noi abbiamo già fatto una serie di manifestazioni per festeggiare i 50 anni dello studio che appunto ricordano quest'anno. Lo studio in questi anni si è molto ampliato, passando dalla sede originaria e unica di Verona a sedi che abbiamo aperto via via in ordine temporale negli ultimi 5 anni a Trento, a Milano, a Legnago, che è un grosso paese in provincia di Verona e da ultimo a Bolzano. Il trend sta continuando e le previsioni future sono di possibili nuove aperture dello studio sia a Brescia che a Mantua, quindi siamo molto soddisfatti dello sforzo fatto e ci impegniamo naturalmente perché si può festeggiare nel migliore dei modi il nostro cinquantenario.